ah finalmente dopo anni dove sono magari saranno andati in discoteca non benzi no che diavolo è giusto il blu terrando dovremmo essere per forza qui per forza dovremmo essere qui forzamente dovrebbero essere per forza qui ma perchè poi faresti farlo vivi e noi aspetteremo abbiamo aspettato abbastanza dove sono? dove? entransi per un grande cambiamento si comincia con il primo passo grani sono qui dietro a voi per tutti i bavadiri aspettate di vedermi vero? paratemi a subire il mio colpo vicidiale ti manca ancora un centimetro ah vabbè così penso che vada bene che brutto volo fatica in mezzo sono tornato ho tornato Mariano e ora è preparti perchè sto per pari il culo ti bastata ancora? bene allora preparti perchè ti sto per prendere con le mie le mie mani come te lo squali tu? mi ha scavato mi ha scavato dunque metti in fila con il tuo amico due pro di cavalieri non si tirano indietro. Io lo farei volentieri, visto che il mio amico mi ha detto che ti devo solamente accompagnare, quindi... Posso lasciare dire? Mi voglio abbandonare nel momento del bisogno? Ecco... sì. Addio. Mi mancherai. No, no, no. La sento di combattere da solo. Va bene. L'ho fatto una volta. L'ho fatto un'altra volta. So già che me ne pentirò. Ho cambiato idea, cavaliere. Quindi ho qualsiasi cosa tu sia. Quindi rimarro con te. Grandi onore averti di nuovo con me. Io, fedele compagno. Ora, orribile creatura, preparati a soccombere. Ehm... Un attimo solo per non ti farmi soccombere, lo che ti do. Però no... Mi... Mi hai chiam... Mi hai... Mi hai... Mi hai... Mi hai chiamato? Sì... 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 Mi hai chiamato di un... Mutante. Per la partita. Ah, beh, senti... Prima di iniziare il combattimento... Mi dovresti dare qualcosa. Ehm... Qualcosa vuoi dire? Ehm... Non vedi che mi manca qualcosa? Eh? Non vedi che mi manca qualcosa? Le mie mani! E che cosa mi mancano? Ridammi le mie mani e poi iniziamo a combattere. Hai capito? Mmm... Va bene. Ehm... Ora siamo pronti. Per un nuovo combattimento... Avendo solo cambiato armi... Non importa! Perché io vi batterò lo stesso! Di sotto, gigante! Uh... 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 È.. È tutto qui? Eeh... Sì... È tutto qui. Potentica... So basta sanzare. e lo scusato che dovrei per il mio colpo micidiale non ci vedo più e il mio compagno è stato caduto battuto da un insetto come osi non ci vedo come hanno potuto siamo una grande squadra io e te un minuto dopo e ti conviene aspettare perché c'è un'ora e convienevoli conviene farli dopo perché mi sa che sta arrivando qualcosa di molto più potente di questi due intendi lo strigone? voi, insurse creature, come avete osato sfidare la mia colla? finalmente ti trovo davanti stregona oscura e ora che me la devi pagare? voi, dovreste pagarmela perché avete sconfitto i miei più grandi servitori e ora col mio sce... con cosa? beh, io me la filo, ciao è scomparso così su due piedi? ma non è andato molto lontano, tranquillo è andato ai piani ancora superiori ma scusami un attimo ma questa casa quant'è grande? due piani circa due piani circa perfetto hai piani ancora superiori c'ormaglia e dobbiamo essere veloci come l'aria prima che il nostro nemico scappi ancora una volta e questa volta non scapperà più ma chi me l'ha fatto va? è andata è andata è andata i